Sì, è sempre bello riniziare e ritrovare le persone con le quali ogni anno abbiamo un'esperienza diversa. Quest'anno la squadra si è rinforzata, sono sicuro che lotterà per ogni obiettivo fino alla fine e sono convinto che faremo molto bene. I ragazzi sono molto carichi, lo staffa altrettanto e dunque bene. Ci siamo quasi tutti, manca Iosifov che arriverà dopo i mondiali e Bukheger che arriverà invece giovedì prossimo dopo le qualificazioni agli europei impegnati con le proprie nazionali. Ci danno una mano Alessandro Gagliani, Davide Malvestiti e da domani un ragazzo greco che sto seguendo da un po' di tempo, verrà a darci una mano in attesa che Oleg riprenda ad allenarsi al ritmo dei compagni. Grande entusiasmo e grande curiosità di conoscerci e di lavorare insieme per creare un team che sarà fondamentale per provare a raggiungere gli obiettivi che questa società così ambiziosa si è posta. In questa parte iniziale della preparazione, come sempre e come solito, lavoreremo molto sulla parte tecnica di base parte sulla quale sarà difficile spendere tempo poi più avanti quando le partite saranno ogni tre giorni perciò approfitteremo di questo tempo che abbiamo per lavorare tecnicamente e soprattutto, come dicevo prima, per costruire quel team che sarà poi importante quando le partite cominceranno. Grazie a tutti!